6 dicembre 2018, bentornati su CiperTV, oggi abbiamo un water particolarmente complesso, soprattutto per quanto riguarda non tanto l'esecuzione quanto capirlo, quindi attenzione! Dal minuto 0 al minuto 10 avremo un milio di corsa e poi il max clean jerk, dal minuto 10 al minuto 13 riposo, dal minuto 13 al minuto 20 800 metri run con max power snatch, dal minuto 20 al minuto 23 riposo, dal minuto 23 al minuto 27, 400 metri di corsa e max effort di thruster, tutto sulla grafica, come al solito buon divertimento e se sopravvivete ci vediamo domani, mi raccomando seguiteci anche su Instagram!